musica 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 oh ci siamo eh che la fai la sky? che fai la sky? la sky cos'è? ah no? dai allora ti sto dietro grazie 300sx ragazzi e 300 ec voglio ricordare quello lì era un 250 da cross ed è stato trasformato in un 300 con in pit dice che ha preso un bel po' di cavalli intorno alla sessantina ecco siamo a casa del vento è venuto due volte qui ragazzi le traiettorie non le so bene o meglio non le so proprio però vabbè è importante divertirsi un po' non 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no.